Oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo Veloci, veloci, veloci E vai via Ciao a tutti, sono Isaac e benvenuti in questo video di SCP Secret Laboratorio con Gabby Non ho nient'altro da dire, ah si, comprate i libri di Gabby Buona, ti lascio al video Oh, salve Sai dov'è? Macchina Eh? La macchina Sei tipo un testimone di Geova? Salve Isaac Salve Dobbiamo trovare il 914 Perché ho una keycard dello Spazio Cos'è il 1114? È una macchina Trovata alla fondazione Anche lui questa macchina 1900 Dati ascolti È una macchina che ha delle varie impostazioni Tutta manuale, senza elettricità Che può Ho trovato Wikipedia Ho trovato Wikipedia Aspetta Io la conosco No Vabbè, io seguo l'unico che conosco Siamo tutti in sala macchina Eh, quanta gente, salve Ehi, ma io ti riconosco Aspetta, qualcuno ha detto siamo morti No Che cosa c'è? No Che è successo? La carta rossa? Ti seguo? È Wilbrun Sì, Wilbrun Arrivando una Salve No No Oh, cavolo Salve Perché voi non ce l'avete la carta rossa? Ce l'aveva la parata Siamo fregati Fuori di voi Fuori di voi Fossa fuori Ma perché? Via, via Ma perché? Ah, ne è rimasto uno dentro Ah, ci devi dare scusa Allora ragazzi Hai ragione Dai ragazzi Non preoccupatevi Non so dove stiamo andando E moriremo tutti Mi raccomando No, non morirete tutti Non vi preoccupate Ah, già è vero Te rimarrai vivo Oh, madò Oh, cavolo Ma dai È arrivata la cosa È arrivata ad uccidermi What? Brun Brun Di Di anche te Anche io Salve Mi ricordo Salve Ma perché salti Con un ceppo di legno Nessuno sa niente Qui Forse hai parlato Con il nome C'è troppo normale Ti riconosce Va, va Quella la ti ha riconosciuto Mi sa Guardala Stenga Ti può servire Ok, grazie Ehi Gastronomico Abbiamo un medikit Ma dopo Quanta gente c'è Aiuto Dobbiamo stare attenti Poi perché ci rimettiamo in cella Non li spezzate C'è la statua Mi sa La statua Oh, oh, oh Oh, no, 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 no Siamo fregati tantissimo Hai colgate Oh, ma c'è l'SGP Ma c'è l'SGP Stato Non abbiamo la carta Non l'abbiamo Ragazzi Non scappone Non scappone Scappone le cazzine Porco No, che cavolo Ha chiuso la porta Aprite la porta Aiuto No, porca vacca Stiamo trasformando le kickcard Noi abbiamo aperto un gate Credo Moriremo male se c'è qualcuno che ci scappa di sopra Torniamo di sotto Ehm, torniamo di sotto È più salvo Mi sa No, ci ha chiuso dentro Posso giustiziare i KSD? Mi stanno buono su Perché io non ho fatto assolutamente niente Aspè Ti do Ti do un cioccolatino Ti do tre secondi per diventare nero Non erano tre secondi però Facility guard Io sono una guardia Anch'io Quella grigia? Eccoti qua, eccoti qua, eccoti qua Salve Che facciamo adesso? Stiamo qua Perché dobbiamo andare là sotto? Dai Stiamo qua Facciamo Ma se vuoi un bel content Devi andare a morire Scusate Ho una proposta Nostro lavoro Ho una proposta Perché non stiamo qua? Perché andare sotto a morire Non è proprio una bella cosa Quindi Ma ci sono anche le panchine Ci mettiamo a cantare Qualche canzoncina d'asilo Dato che siamo in tema Scusate Siamo addestratissimi Ma io non ho La più palida idea Di dove stiamo andando In corrida Sono dannatamente simili Sono tutti uguali Tutti uguali È impossibile Ma qua c'è una panchina Devo ricordarmela Si è lamentato No Io l'ho già vista quella panchina Stiamo girando intorno Lo sapevo Sì Eccola là Una console Chi è? Salve Ho sempre voluto un cane Due cani Perché ci ammazzano Torniamo dalla panchina Torniamo dalla panchina Questo qua è disarmato E salve Ma dai Attento ci sono due cani Dai scappa Quello che ho vietato Ok in modo straromotico Secondo me è un androide questo Aspetta ma te sei qua Vuol dire che hai fatto un sacco di strada Venga venga Ti portiamo fuori Anche se ti dovremmo uccidere Ma vabbè Carta rossa aveva Aveva la carta rossa Prendi la Isaac Aspetta Grazie per la carta rossa Adesso Come si Si Ah Diablo gate No fermi Allora possiamo spiegare No Mi sa che ha fatto una brutta fine Le uniche due persone che dovevamo proteggere No poverino Mi mancherai E vabbè Continuiamo a non fare niente Io non seguo il branco Segui i soldati Ma il branco ci porterà alla morte Loro hanno armi più forti E ci hanno bloccato fuori Ma sono i nostri amici E tu non hai la carta rossa Scusa Ah ce l'avevo L'ho dimenticata di qua No davvero No Non la voglio usare Vuoi andare a morire? Muori vai Vai Prendi la carta e vai a morire Ce l'hai? Io rimango qua Sì Vabbè ciao Funziona Lo so che funziona Ma io non voglio Io non voglio morire Ok va bene Arrivo Vai lei dietro Sono figro Ok di natura Vai qua E si adesso devo anche correre E attento Qua c'è la nuke Se ci muoio Ma mira Mi abbandoni così Mi abbandoni così Ma guarda Mi abbandona così Oh porca vacca No Occhi dietro No sono Pietro Baldi Sono scornato Sei un Uh sei una guardia Oh ma dopo Sono salito Sono salito No Sei ritiuso la roba O che sei? Ah salve Ok Facciamo i pigri ancora No aspetta Non ci credo Ti hanno promosso Sì Sì sei tu Posso dare gli ordini Non ci credo Che non facendo niente E morendo Ti hanno anche promosso Ma guarda te No che è successo? Questo qua mi ha morto No Oh ma do Oh ma do Aiuto Aiuto Ciao Isaac Isaac Vogliamo la carta rossa Vogliamo la carta rossa Ok Vogliamo la carta rossa Tu mi dici come fare la carta rossa E io ti porto alla salvezza Devi entrare con la carta Bella troppi mentre c'è dentro Ma lo stanno facendo tutti Detro sta porta Oh ma do No no Chi è che è aperta Oh porca vacca E tu scemi E tra te Che ti la porta Che ti la porta Ma questa porta Prova questa Questa No lockdown Siamo fregati Che facciamo adesso Oh Mediti Guardate fate come lui Sta meditando Vedete Proviamo Oh no aspetta Lo sento Lo sento Di qua Arriva dalle ventole Oh Lo sento Lo sento Ok No Che Allora Scalzi 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 Mi ha portato Nella pocket dimension No Sta seguendo L'old man Sta arrivando sopra le scale No Sta arrivando sopra le scale Gli hai portati qui Cosa hai fatto Detro i taiso Niente Salve uomo focaccina Non voglio far niente Ah c'è un'arma E' attento Andiamocene via 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 No Chi è Ah salve Che ci facciamo qua Salve anche voi in vacanza qui Sì bello Prenotato io Sì mai più all'Italia Guarda mai più No dove va Oh E che dobbiamo fare qua scusa Oh sto perdendo vita Dobbiamo scegliere una porta Mi dica se è buona lì Ok ne scelto un'altra Con una porta è giusta Oh Sì È giusta Sono ricinziato Cosa La carta Oh la carta grazie Ok che cosa dobbiamo fare Guarda sono vivo per miracolo Sono andato nella pocket dimension Devo prendere il pulsante Dove sei? Dove è andato? Signor Dove È sparito Hai fatto il tuo dovere Devi scappare Ok ma Da giù Da dessù Diventa un soldato Vai giù No aspetta Cos'è sta zona? Questo è il bioreattore Per far funzionare il nucleare Devo andare da questa parte Vero? No Ok Esploderò Ah grazie Vai giù Vai giù Salve Sono vivo per miracolo Sono andato nella pocket dimension Tipo sono riuscito a sopravvivere Salve Devo uscire da qui Perché devo andare in bagno Dove devo andare? Oh siamo al nucleare Ecco Apri quella porta Vado ad accenderlo Off No Ready Oh cavolo Oh cavolo Oh cavolo Come si esce da qui? Guardate la strada Io non so Veloci 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 No ne abbiamo lasciato uno Sinistra Ok Credo Oh vado Se credi Allora siamo fregati Appa Isaac Dai 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 Questo I have a question Come access the light Non mi fa Non mi fa Non mi fa aprire qua Devi tenerla in mano Si lancerla in mano Non funziona Ah vado nell'altro gate Ok va bene Oddio Com'è addio No Mi ricordo di quella roba là So dove devo andare Destra No Per un pelo Ah però almeno abbiamo fatto patta Dai Perché mi hai fatto attivare la nuke Dai cambia Mi hai ucciso Era una cosa bella Si si Dillo che era il tuo piano Fino dall'inizio Vabbè comunque Se vi è piaciuto il video Mettete mi piace E ciao